Alex Nikolov, buon 2024, il nuovo anno della Lube si apre questa sera. Sì, infatti dopo una brutta sconfitta siamo ritornati in campo con una vittoria molto bella quindi siamo contenti. Una prova molto efficace la tua, si vedeva proprio che c'era tanta rabbia in corpo, tanta voglia di vincere. Qual è stato l'aspetto che ha deciso la partita? Sicuramente abbiamo attaccato molto bene, abbiamo ottenuto le loro battute forti, poi anche loro non hanno giocato la loro partita migliore però con un attacco come il nostro che abbiamo mostrato oggi è difficile. E adesso non vi fermate perché si parte per la Romania, Champions League? Sì, partiamo fra due giorni e poi ci aspetta una partita dura a Perugia, quindi una bella settimana ci aspetta. Grazie.